Oh yeah! Y-Lab Woodblock Levi Y-Lab e i nuovi Woodblock Sentiamoli! Eh, sentiamo, vediamo prima poi sentiamo New Entry il grande in noce scavato il piccolino non è in noce è un legno meno duro e questo che avevate già visto vediamo i suoni sentiamo questa bacchettina è su merda la 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 Grazie.